Musica Vengono resi gli onori al Presidente della Repubblica Bandiera della Polizia di Stato, banda musicale, reparto d'onore, pronti per la ressegna Musica Prende la parola il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli Seguendo i rigidi dettami che scandiscono la liturgia del cerimoniale, questo sarebbe il momento dedicato alla condivisione dei traguardi raggiunti nell'anno appena concluso. La solenne occasione in cui, a sfondi cifre e percentuali spesso interpretate con sapiente benevolenza, si illustrano i risultati dell'attività concluta. E a un maggiore impegno, facendo della nostra presenza sul territorio la nostra primaria amica, alla quale appoggiamo le nostre immigrazioni. E celebriamo la nostra festa, solo la forza di ciascun anello che compone il sistema sicurezza rende la cadena più solida. Siamo un paese che guarda gli altri e che gli altri vogliono guardare e vedere. Accoglienza e integrazione sono due cose che stanno insieme, sapendo che in questo rapporto tra accoglienza e integrazione, in questo limite della capacità di integrazione, si gioca un pezzo importante del presente e del futuro. In occasione dei tragici e denti calamitosi che hanno provocato numerose vittime e danni inestimabili, Italia Centrale, agosto 2016, gennaio 2017. San Pietro Mosezzo, 27 settembre 2016. Resetta, part! Durante un servizio di perlustrazione del territorio, i due operatori notavano un individuo sospetto che alla loro vista si allontanava velocemente. Alla richiesta di svuotare lo zaio, l'individuo estraeva una pistola e sparava l'indirizzo dell'agente scelto della Polizia di Stato Cristian Movio, colore dell'efferato attentato compiuto a Berlino il 19 dicembre scorso. Chiaro esempio ed eccezionale coraggio, straordinario senso del dovere a favore della collettività ed elette virtù civiche. Sesto San Giovanni, 23 dicembre 2016. Sesto San Giovanni, 24 dicembre 2016. Grazie a tutti. Grazie a tutti.